Scopri il lato umoristico della scienza e della matematica. Cos'è un bimbo complessato? Un bimbo di madre, reale e padre immaginario. Qual è il ballo preferito dalle scimmie? L'orango tango. Cosa dice un vettore ad un altro? Scusa, hai un momento? Non ha vita sociale e può dimostrarlo matematicamente. Adora il dolore, specie su se stesso. Conosce perfettamente il calcolo vettoriale ma non si ricorda come fare una divisione a mano. Ridacchia ogni volta che sente parlare di forza centrifuga. Conosce ogni singola funzione della propria calcolatrice grafica. Quando si guarda allo specchio, vede un laureando in ingegneria. Un scienziato russo fa un esperimento. Prende nelle sue mani un sasso ed una lampadina tascabile accesa e lascia cadere contemporaneamente i due oggetti nella vasca da bagno piena di acqua. Poi nota che questi oggetti toccano il fondo della vasca nello stesso tempo. Dopo aver riflettuto, descrive il risultato della sua ricerca. Il sasso si muove nell'acqua alla velocità della luce. Che cos'è un orso polare? È un orso che ha cambiato. Che cos'è un no-not. Che cos'è un no-not. Che cos'è un no-not.